In soli 12 giorni, grazie a Shockbox, ho ritrovato la linea. È semplice da seguire, tutti i pasti sono inclusi e facili da preparare. Con Shockbox perdo peso e non rinuncio ai piatti appetitosi. Con i suoi comodi astucci giornalieri mi accompagno ovunque. Shockbox è il kit alimentare per tornare in forma. Avrai la consulenza gratuita di una nutrizionista per un anno. Acquista Shockbox su formula12.it Shockbox, il tuo peso ideale diventa reale. Grazie a tutti.